Che volevo raccontare? E' una cosa che tengo, cui tengo molto. Non mi fermo nessuna fermata se prima non ho capito davvero dove scendere. Su quel treno incontro tante persone, a volte alcune mi insegnano qualcosa, altre mi stupiscono. Altre le vivo senza pensare a nulla, altre mi accarezzano il cuore, alcune mi regalano la loro storia. Spesso parlo del mondo, dei bambini, di quanto soffrono. Con alcuni c'è solo uno scambio di sguardi e con altri si vive la rabbia di non comprendersi. Ma è comunque il viaggio e della vita, Daniela.